Le previsioni meteo per venerdì 23 agosto di Globus Television. Venerdì, la giornata con il bel tempo prevalente al mattino, nel pomeriggio probabili veloci precipitazioni, localmente temporalesche, sulle zone più interne. Temperature massime fino a 34 gradi, valori notturni stazionari, mari, mar Ionio mosso, mar Tirreno mosso, stretto di Sicilia da mosso a molto mosso. Grazie a tutti.